Ciao ragazzi, benvenuto in Mar di Pace, Coso Se Ego da Gabo Man ha perso la Roma. Io non ce la faccio più, signori, lo detto già se perdeva la Roma io ci volevo il canale. L'ho già detto questa frase. Allora, ragazzi, io non voglio incassarmi, ma che cazzo di differenza hai fatto? Che cazzo di differenza hai fatto? Cioè, direi che io non ho più parole perché uno vuoi fare una differenza di merda che l'ultima volta hai giocato bene, l'ultima mattina è la terza mattina. l'ultima mattina è la terza mattina. Come cazzo è possibile alla Roma che non ci riesce a vincere? Come cazzo fai a non vincere se cazzo è verile? Come cazzo fai? Non lo so manco io. Perché io non puoi giocare come la merda. Non ci... io... io veramente... Fa stessa parole. Fa stessa parole. Cioè, non ci dico. Non ci dico. Cioè... è una cosa impossibile questa cosa. Cioè, io... io veramente... vuol chiamare il boss e io lo dico. Subito, vuol chiamare. Guarda. Ah, posso chiamarlo. Eh, vuol chiamare... chiamare cosa. Siamo in live? Siamo in live? E sto a affanculo. Vabbè, non lo mi chiamare. E questa cosa mi fa giù veramente il culo. Perché uno puoi fare come cazzo gli pare alla difesa. Perché uno vuoi fare un cazzo. Come cazzo gli vuol dire? Come cazzo gli vuol dirlo a voi? Cioè, io vuol dire cazzo come fare. Un video con lo... lo sto facendo. Ma il video lo sto facendo. Ora, fra un po' uscirà il G5 sul canale. Che cosa? Bene. Signori, io vorrei seguire anche il video qua. Perché non è possibile. Ciao, signori.